Tu la conosci la storia di questo posto? Un giorno di questi prendo quel pulmino e non mi fermo finchè non sono a mille miglia da qui. Inizia a risparmiare o non vai da nessuna parte? Ti ho portato alla spesa. Che dici se raddoppiamo le scorte per la settimana prossima? E perché? Perché non ti fai portare da Miglia al mio locale? Se vuoi ti posso raccontare tante cose su questa parte del paese. Durante il comunismo tutti quelli che vedi qui intorno sono stati prelevati dalle loro case e messi qui. Qualche volta ci pensi a come erano le cose prima? Io vorrei lasciarti il mio numero ma tu non hai un telefono per chiamarmi. Perché ti stai truccando? Non succede mai niente qui. Non succede mai niente qui. Se vuoi. Se vuoi. Se vuoi. Se vuoi. Se vuoi.